Beni per mezzo milioni di euro sono stati sequestrati dalla DDA di Catania nei confronti di un esponente del clan Trigila di Noto. Su delega della precura distrettuale di Catania, la divisione anticrimine della squadra mobile di Siracusa hanno dato esecuzione al provvedimento di sequestro dei beni ammesso dal Tribunale di Catania, sezione misura di prevenzione, su proposta del questore di Siracusa e del procuratore di Catania nei confronti di Giuseppe Crispino, 42 anni, originario di Noto. Le attività eseguite e gli accertamenti effettuati hanno consentito di dimostrare la pericolosità sociale dell'uomo al quale era già stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Crispino è ritenuto affiliato da oltre 20 anni alla consorteria mafiosa del Trigila Pinnintula, nella quale ha avuto l'abilità di scalare le gerarchie intrinseche fino a divenirne in alcuni periodi l'indiscusso reggente. Crispino nel luglio del 2018 era stato tratto in arresto in flagranza di reato alla squadra mobile Siracusa perché a seguito di una perquisizione domicilare era stato trovato in possesso di munizionamento comune da guerra e 640 grammi di cocaina pura. Nello stesso mese del luglio 2018 in carcere Crispino era stato raggiunto da un'altra misura cautelare scaturita nell'ambito dell'operazione denominata Araba Fenice. Le indagini patrimoniali hanno consentito di acclarare tra l'altro l'assoluta sproporzione tra i redditi e le entrate ufficiali riferibili al nucleo familiare del Crispino. Oggetto del sequestro sono stati quattro veicoli tra i quali un'auto di lusso, una villa ubicata nella zona periferica di Noto, quattro appartamenti, quattro garage e due cantine tutti compresi in un medesimo stabile che risiede in una zona residenziale della città di Noto e inoltre il 100% delle quote societarie di un'impresa edile a lui riconducibile per un valore stimato di oltre 500 mila euro. In particolare, con riferimento al sequestro delle quote societarie, le attività di indagine scaturite dalle verifiche di un'impresa presso cui Crispino risultava formalmente ingaggiato hanno minuziosamente ricostruito come invece Crispino avesse sempre agito davvero dominus avendo di fatto la personale gestione delle attività imprenditoriali che nel tempo si sono succedute. Grazie a tutti!